Abbiamo inaugurato Herbie, macchina piccolissima, chiaramente la mia in tre pesi massimi ha resistito, questa è la notizia Ha fatta lui eh Pensate che Cristian, io e Davide insieme facciamo oltre 300 kg E 9 vite in velocità E 3.000 cose tutte insieme, 3 simili uguali che si incontrano Può succedere di lui Ha grandinato in macchina, solo in macchina nostra però Dentro la macchina Salutiamo allora Cristian, il suo blog e gli amici Ok, tutti gli amici del Saludatore, salutiamo tutti gli amici di Oasi Barche Grazie a Radio Bimbo Grazie E poi? E basta, chi ci ama, chi ci ama e basta, chi non ci ama no, ok? Anche chi non ci ama dai Ciao Ciao